E' stata rinviata il 20 di ottobre la seduta del Consiglio regionale in programma oggi a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. L'Ufficio di Presidenza, dopo aver sentito i capigruppo, ha deciso lo slittamento per consentire ai consiglieri di conoscere l'esito dei tamponi covid effettuati in questi giorni. La decisione infatti è arrivata dopo la notizia della positività di un collaboratore del gruppo parlamentare della Lega che aveva già annunciato che non avrebbe partecipato ai lavori a scopo precauzionale. Una seduta, quella odierna, che si preannunciava sicuramente difficile, a pesare sui lavori il covid e la crisi nella maggioranza di centrodestra a trazione Lega, innescata dai risultati delle recenti elezioni amministrative, che hanno visto la coalizione rimediare una batosta nelle consultazioni più importanti a Chieti e ad Avezzano. In ballo ci sarebbe una mozione firmata all'unanimità da dieci consiglieri e quattro assessori della Lega nell'esecutivo, con la quale si chiedono le dimissioni dell'assessore regionale al turismo, il forzista Mauro Febbo, ritenuto colpevole di aver tradito il centrodestra alle elezioni di Chieti per aver appoggiato la coalizione civica di Diorio al primo turno e non di Stefano. È stata annullata anche la seduta della Commissione Bilancio, sempre con la motivazione legata al covid. All'ordine del giorno c'era il provvedimento legislativo di ratifica della variazione del bilancio per dare copertura al contratto con il Napoli Calcio per il ritiro a Castel di Sangro, ma per molti anche questo rinvio è da collegare alle divisioni e alle spaccature nella coalizione che governa la regione. Rinviata assieme al Consiglio regionale di oggi anche la discussione che riguarda il polo Amazon da costruire nel Vastese.